Antonio Cargiulo, presidente e fondatore di AfroNapoli, il caso Astarita è la posizione ufficiale di AfroNapoli. AfroNapoli è una squadra multietnica, lo ricordiamo, fondata nel 2009, che ha dei valori più che un credo politico. È meglio chiarire questo punto? Sì, AfroNapoli non è una semplice squadra di calcio, ma è una squadra che è nata nel 2009, un'associazione sportiva proprio per combattere il razzismo e qualsiasi forma di discriminazione. Per cui questa cosa l'abbiamo sempre fatta, da sempre, in modo chiaro, costantemente, quotidianamente, per cui rimaniamo estremamente sorpresi e colpiti dal fatto che in una nostra tesserata, peraltro capitano della squadra femminile di Calcio 11, si candida e ammarano una lista in coalizione con la lista di noi, con Salvini. E questa cosa ci crea un forte disagio e imbarazzo. Ovviamente abbiamo chiesto alla Astarita di spiegazioni e di ovviamente fare un passo indietro, di fare una scelta definitiva. C'è un codice etico, vero, che fa parte delle selezioni dei giocatori di AfroNapoli, quindi anche delle giocatrici che bisogna condividere prima di chiedere di far parte di questa squadra. È meglio chiarire anche questo punto? Sì, c'è un codice etico, ma soprattutto c'è la nostra storia, che ormai per fortuna tutti conoscono, sanno bene chi siamo, cosa facciamo, quindi è assurdo che succeda una cosa del genere. Ecco, però la questione che è stata ribaltata dai media, anche nazionali, come questione politica e come discriminazione all'incontrario, perché può non essere vista da questo punto di vista? E invece è semplicemente una questione etica? È una questione di valori, perché la Starita conosce bene, la AfroNapoli sa bene cosa è l'AfroNapoli, ci conosce bene e non può fare questa scelta pensando che sia un gioco. È una scelta chiara quella di schierarsi a fianco di noi con Salvini, che è quindi in totale contrapposizione con i nostri valori. La Starita può tranquillamente continuare a fare calcio con qualsiasi altra squadra, avrà le opportunità per farlo. Non è un razzismo al contrario, perché non è che stiamo negando un diritto a una ragazza che può comunque giocare e pregare sport ovunque. In qualsiasi associazione, lo ricordiamo, si chiede di condividere i valori dell'associazione. AfroNapoli, prima ancora che una squadra, è stata un'associazione di lettantistica sportiva, quindi un'associazione che si batteva contro il razzismo, ma anche per l'integrazione. È bene per tutti capire fino in fondo di che cosa stiamo parlando. Ecco, ce lo ricorda Presidente Gargiulo? Sì, l'abbiamo sempre fatto, continuiamo a farlo. Abbiamo sempre dato opportunità di integrazione, di aggregazione, anche di percorsi di formazione, di opportunità di lavoro per tutti i migranti che vivono nella nostra città, perché per noi la città è di chi la vive, ma anche per tanti ragazzi napoletani che hanno avuto difficoltà. Questo è il nostro credo, sono i nostri valori, li portiamo sempre avanti e ovviamente chi vuole stare con noi li deve perlomeno condividere. Poi personalmente magari uno vota quello che vuole, non è che ci interessi, perché la questione non è politica ma è di valori, però una candidatura diventa un problema pubblico che ci crea ovviamente difficoltà importanti. Ecco, se invece adesso ci fossero delle ripercussioni su AfroNapoli, perché in qualche modo indirettamente è stato attaccato un ministro dell'interno, voi come vi state preparando? Continuerete a mantenere fermo questo punto di vista? Noi continuiamo per la nostra strada, noi parliamo di umanità, chiediamo che in questo momento ci sia più umanità, che ci siano offerte le giuste possibilità a tutti i cittadini che vivono in queste città, in questo paese. Penso che i problemi grossi di questa nazione sono altri, non sono solo i migranti che o questa fantomatica invasione che ci viene raccontata ogni giorno dai media, ma l'Italia è un paese che ha dei problemi molto più seri come mafia, camorra, corruzione, di politica di lavoro non si parla, di politica sociale non si parla. Penso che per risolvere i problemi di questo paese bisogna tornare a parlare di queste cose che sono molto più serie. Quindi non bisogna porre i migranti nell'equazione migranti uguale in sicurezza e su questo siamo chiari. Sappiamo però che anche le giocatrici della squadra non sono scese in campo a giocare, come mai questa posizione e lei che ne pensa? No, noi avevamo chiesto venerdì scorso un incontro a tutte le ragazze per chiedere questo argomento e per trovare una soluzione per andare avanti, ma purtroppo non si sono presentate, forse non hanno compreso la nostra intenzione di voler trovare comunque una soluzione. Quindi che fine farà la squadra femminile di Afronapoli? Non dipende da noi, nel senso che se le ragazze si rifiliano di giocare non abbiamo alternative, non possiamo iniziare la stagione, quindi purtroppo, malincuore, secondo me non siamo in grado di poter disputare questa stagione. Invece con la Starita avete parlato, vi siete confrontati? Ma noi più volte abbiamo incontrato tutti a Starita per comprendere questa scelta e per tentare di far capire a lei quanto era grave questa cosa, che purtroppo spesso la politica viene presa con troppa leggerezza, soprattutto nei comuni di provincia, non viene dato giusto peso a quelli che sono i valori che noi portiamo avanti e come vengono poi portati nella politica. Si aspetta una pubblicità da questa vicenda, seppur negativa? Purtroppo no, non mi interessa assolutamente nessun tipo di pubblicità, né positiva né negativa. è solo un fatto che ci dispiace, perché comunque dal punto di vista umano comunque ci dispiace sempre e ci crea un forte imbarazzo, perché chiaramente tutto il nostro seguito, tutto il nostro portato sa bene che non possiamo avere un nostro testerato che si candidi con un abbraccetto con la lista di noi con Salvini.